E' nata come una sfida personale, diventerà una sorta di passaggio di testimone su pedali alla prossima capitale italiana della cultura. Ferdi Berisa, imprenditore peserese noto ai più per la sua vittoria televisiva al Grande Fratello 2009, durante il mese di novembre pedalerà per tutta la Sicilia con la prospettiva di completare il giro dell'isola su pedali. Io tutti gli anni, finita la stagione, siccome noi lavoriamo intensamente a Pesaro, mi prendo e mi faccio uno dei viaggi fuori dagli schemi, eccetera, eccetera. Altre volte ho fatto tutto a piedi e ho detto perché stavolta non proviamo la bicicletta, che io non sono mai andato in bicicletta oppure l'ho usata pochissimo, e ho detto adesso lancio un sondaggio su internet, vediamo cosa mi consigliano, tra le varie cose da fare strane, ho chiesto ragazzi consigliatemi un viaggio, una meta, qualcosa di strano da fare come avventura nuova. La gente ha proposto, fa il giro della Sicilia in bicicletta, poi mi avevano proposto anche di fare lo stretto di Messina nuoto, oppure di fare un cammino a piedi, però i cammini già li avevo fatti, uno dei miei cammini è stato anche attraversare l'Italia da costa a costa, e questo viaggio poi è partito così tra una battuta e l'altra, ho conosciuto i ragazzi della bicicletta Focarini che mi hanno dato l'input, e da lì ho detto, boh, potrebbe essere una cosa figa, facciamola. Secondo noi mentalmente è preparato, fisicamente se non è pronto e non è preparato, ha comunque un motore che lo sosterrà per tutta questa avventura. Questo territorio esprime una cultura a 360 gradi, infatti qualsiasi giorno che usciamo di casa possiamo vedere lungo le strade, lungo i sentieri di campagna, qualsiasi persona di qualsiasi età che gira con delle biciclette, sia elettriche che muscolare. L'elettrica oggigiorno la fa da padrona perché riesce a mettere in gioco anche persone che con le proprie gambe non riescono più a percorrere dei chilometri abbastanza sostanziali, però con l'aiuto del motore riescono a portare a termine la loro giornata, la loro sfida, le loro gare. Il sindaco Biancagni e gli assessori Vimini e Mengucci hanno salutato questa mattina in piazza la partenza di Ferdi, investendolo anche del ruolo di ambasciatore della Bicipolitana e della Capitale della Cultura verso Agrigento, prossima Capitale 2025. Noi siamo la città di Pesaro, una delle più conosciute per la Bicipolitana e poi siamo fissati con la bicicletta, poi andiamo in Sicilia e poi Agrigento, città della cultura 2025, andiamo a salutarli e gli portiamo un omaggio da Pesaro perché poi è una cosa figa che faremo anche i vari comuni che girerò, porterò un omaggio di Pesaro a tutti i vari sindaci e dove vogliamo fargli un inbucca al lupo e poi fargli sapere che noi a Pesaro si va in bicicletta e si arriva anche fino in Sicilia in bicicletta.